Questa è un'applicazione molto utile quando vogliamo presentare dei contenuti alla classe ma non vogliamo perdere di vista quello che sta succedendo nella videochiamata. Si va nel Chrome Web Store e nella casella della ricerca si scrive tab resize che è il nome dell'estensione è questa qua tab resize si clicca su aggiungi si permette ovviamente di aggiungere l'estensione e il simbolo dell'estensione comparirà qua all'inizio ovviamente comparirà con questo simbolino new che poi andrà via la prima volta che l'estensione sarà utilizzata. Vediamo come funziona diciamo che io devo fare una lezione di storia e voglio utilizzare il libro digitale quindi ho preparato il mio appuntamento in chat e ho già preparato anche aperta l'altra pagina sempre in internet dove ho il libro di storia. Cosa succede però? Succede che nel momento in cui io attivo la presentazione dello schermo e voglio condividere la mia schermata con il libro succede questo che mi si apre la schermata del libro ma io ho perso quello che prima vedevo nella chat quindi o io vedo quello che accade nella chat oppure io apro la scheda con il libro di storia. L'applicazione invece che se volete potete scaricare funziona così io entro nella mia nella mia chat e cosa faccio? Vado a cliccare questo simbolino mi si apre questa finestra che mi fa vedere le possibilità di gestione dello schermo. Allora quella che abbiamo aperto adesso è quella a schermo intero dopodiché io posso però decidere di aprire delle finestre a seconda di quanti sono anche i contenuti che voglio presentare. allora rimaniamo nell'esempio del libro digitale di storia vedete questo è importante in questa schermata io ho il simbolo che mi fa vedere che queste sono pagine di internet. Io posso anche decidere scegliendo qui se tenere la schermata di Meet a destra piuttosto che a sinistra. Allora decidiamo di utilizzare questa modalità dello schermo. Io clicco e automaticamente io ho lo schermo diviso a metà. Qui continuerò a vedere quello che accade nella chat nella modalità che che voglio io ma contemporaneamente potrò far vedere un altro contenuto quindi si è praticamente sdoppiato lo schermo. Un'altra possibilità di questa applicazione accade quando io voglio far vedere un contenuto che non è in un'altra pagina web ma è semplicemente un documento che io ho già aperto sulla scrivania del mio computer. Allora solita cosa io sono entrata nella in Meet ho aperto il simbolino dell'estensione ma guardate la differenza ho flegato single tab. Che cosa succede? Le possibilità sono le stesse ma vedete che qui non c'è più il simbolo di un'altra pagina di internet c'è semplicemente una parte vuota. Allora io scelgo questa e vediamo quello che succede. Invece di dirgli come abbiamo fatto prima presenta il tuo schermo intero questa volta io gli dirò presenta una finestra. Automaticamente mi fa scegliere il documento che io ho aperto sulla scrivania del mio computer. Io gli dico ok voglio far vedere la pagina di questo esercizio clicco o evidenzio il documento che mi interessa clicco su condividi ed ecco quello che accade. Io ho di nuovo lo schermo diviso a metà ma non tra due schede internet bensì tra la pagina di Meet e il documento che io ho aperto sulla mia scrivania. In entrambi i casi quindi io ho la possibilità di tenere sotto controllo quello che succede nella videochiamata mentre faccio lezione.